Quel giorno faceva un caldo infernale. Anche il vento alzato sì nel pomeriggio era un soffio infuogato che non dava sollievo. I piedi dei legionari e gli zoccoli dei cavalli sollevavano voloni di polvere nella pianura di Arza. Era il 9 agosto del 378 davanti alla città di Adrianopoli. Uno di fronte all'altro due armate, le legioni romane circa 30.000 uomini, di fronte goti rinforzati da bandierani e unni di circa 20.000 unità. Questa però fu una disfatta per romani. Una disfatta che ebbe ripercussioni a cascata, portando paradossalmente al tracollo dell'altra parte dell'impero, quella occidentale. Da un punto di vista strategico la battaglia della Adrianopoli non fu uno scontro memorabile, ma le conseguenze, come vedremo, saranno catastrofiche. Ma facciamo un passo indietro. L'impero in quegli anni non era affatto in declino. Risultava anzi attrattivo per grandi masse di barbari, che miravano a civilizzarsi e a migliorare le proprie condizioni di vita. E l'impero, che già di fatto era un crogiolo multietnico, aveva bisogno di queste forze nuove. Servivano soldati all'esercito, mano d'opera ai grandi proprietari terrieri, coloni nelle province più remote e spopolate. I romani erano sempre più resti ad arruolarsi e la difondistia accede all'esercito braccia utile nei campi. Ben prima di Adrianopoli erano iniziate invasioni pacifiche di gente sottomesse, una migrazione di popoli disposti a romanizzarsi. Soprattutto i popoli alla frontiera orientale, cioè i godi esarmati, che commerciavano da tempo con Roma, oltre a praticare forme primitive di agricoltura allevamento. I godi, soprattutto, senza rendersene conto, erano già diventati dipendenti dall'impero. Infatti, da tempo i romani assoldavano per le loro campagne militari orientali, specie contro la Persia, bande di mercenari godi, in cambio di prebende, pensioni e regolari sussidi, comprese le forniture di grano. Molte le tribusi erano alleate, proprio per trattare con l'impero questo Dout d'Esta vantaggioso per entrambe le parti, eleggendo propri signorotti e principi. Dopo averli buoni nel 369, l'imperatore d'Oriente Valente, presa ad assumere mercenari godi da inviare al confine con la Mesopotamia, aveva in animo di dichiarare guerra alla Persia. Non sospese però le sanzioni commerciali, per cui i godi avevano meno possibilità di fare acquisti dai mercanti romani e non ricevevano più sussidi e forniture di grano. Queste sanzioni erano state comunate ai godi perché avevano appoggiato la ribellione del generale Procopio a Costantinopoli, proprio contro Valente. Il conseguente impoverimento spinse molte famiglie a vendere i figli come schiavi. In questo grima si inserì l'aggressione unna, che massacrò e mise in fuga le popolazioni gotiche. Una prima ondata di profughi tervingi, quelli che i romani chiamavano visigoti, si accampò sulla riva del Danubbio, di fronte ai posti di guardie romani, chiedendo terra di Magnale in Tracia, dove vivere pacificamente. Per settimane attese la risposta di Valente. L'imperatore si risolva ad accoglierli in pace, ma ordinò di far passare solo i maschi e disarmati. Evidentemente ne vorreva arruolare la maggior parte. A quel punto dilagarono corruzione e inefficienza. Corrompendo i controllori, molti godi si portarono dietro armi e famiglie. E molti funzionari, con la speranza di accaparrarsi qualche schiava, lasciarono passare donne e ragazze. Non c'erano strutture d'accoglienza adeguate. Si formò un apocalittico campo profughi, in cui i funzionari lucravano sulle terrate alimentari. Sull'altra sponda, attirata dalla notizia delle porte aperte, si era riversata una seconda folla di fuggiaschi, i greutungi, ovvero gli ostrogoti. Appena i profughi visigoti vennero incolonnati verso l'interno, gli ostrogoti si buttarono a guadare il Danubbio con zattele di fortuna. Molti annegarono, altri si accamparono abusivamente in territorio romano. La carovana dei godi ammessi, capitanata Fridigerno, chiedeva il permesso di entrare in Marcianopoli per rifornirsi di viveri. Le venne negato e scoppiò alla rivolta. I godi sopraffecero i romani, mentre il comandante militare della provincia Lupicino banchettavano i nidi del barbari. Informato dell'insurrezione, Lupicino reagì maldestramente. Fece uccidere la loro scorta, ma non ebbe il coraggio di sgozzare Fridigerno e i compagni. I guadi, una volta usciti dal banchetto, stracciarono l'accordo di pace. Iniziò così la guerra gotica, un conflitto che si protetasse fino all'estate del 378. Ora i romani compiano mosse sbagliate, ora azzeccavano la tattica giusta. Si arrivò alla fine allo scontro in campo aperto nella piana di Adrianopoli. Ci furono trattative in extremis per evitare la battaglia, ma gli interlocutori erano reciprocamente sospettosi e non approdarono a nulla. Nel tardo pomeriggio del 9 agosto le truppe di Valente, all'impiedi da ore sotto il soleone e a digiuno, avanzarono verso il nemico nel classico schieramento. Fanteria al centro, cavalleria alle ali. I godi li attendevano davanti al cerchio dei loro carri. Avevano appiccato fuoco alla prateria per intossecarli di fumo, ma in serba avevano una mossa ancora più astuta. Il nerbo della cavalleria, irrobustito da bande di unni e alani, si erano spostati in cerca di foraggio e rientrava di nascosto, senza sollevare polvere, lungo il letto quasi in secca del fiume Tunzda. La sua appartesa gettò lo scompiglio nelle file romane. Lada a destra dei cavalieri rinculò addosso ai fanti. Quella sinistra, ormai spintasi fino ai caricodici, si accorse di avere il vuoto alle spalle e sbandò. La fanteria, sentendosi stretta nella morsa dei cavalieri nemici, indietreggiò ammocchiandosi su se stessa e fu facile preda degli avversari. Quattordici reggimenti furono annientati. L'esercito e l'impero orientale non esisteva più. Di Valente non si trovarono neppure né i resti. Enorme fu lo shock a Roma. Mai si erano arresi ai barbari. Ora si trattava di ricostruire un esercito, riprendere la traccia, salvare l'impero d'Oriente. Ma questa è un'altra storia. Secondo alcuni storici, la battaglia della Ternopoli, ovvero il giorno 9 agosto del 378, sarebbe l'inizio del Medioevo. Anche oggi siamo arrivati alla fine, abbiamo riparlato di storia militare, di una battaglia forse non così conosciuta da parte dei romani e una sconfitta non famosa quanto quella di Teodoburgo, ma insomma che ha ripercussioni molto più pesanti per l'impero d'Occidente. Rimaniamo su storia romana, ma ce ne andiamo nella Repubblica Romana a parlare di un processo a Scipione l'Africano e suo fratello. Ciao a tutti!